l'escrizione bellissimo attenzione che finalmente abbiamo trovato quello che noi chiamiamo il il bottino del giorno abbiamo magia qui sotto sotto gli occhi una famiglia numerosa di plerotus questo e questa è la specie ostreatus che praticamente nasce sui ceppi degli alberi morti vedete questa è una quercia che è stata aperta da un fulmine e adesso dal tronco arrivano tutti questi bei bei funghi una meraviglia proprio guarda che belli eh il cesto Nicola è sempre vuoto eh adesso lo riempiamo dai un attimo che devo devo mettere devo cacciare prima tutti i giornalisti che sono arrivati